Ecco, appena montata, la nuova pellicola di Brigg è appena arrivata, l'ho attaccata in due minuti, torna molto bene, è precisa, ci sono tutti i bordi, tutti i bordi anche giro giro, ok, anche qua, pellicola, pellicola, perfetto, veramente un ottimo lavoro. Sia finalmente anche per HTC One abbiamo le personalizzazioni. Bye bye!